L'anno scorso abbiamo fatto una sorta di centro estivo casalingo con qualche ospite passeggero. Quest'anno il vero centro estivo lo hanno spostato troppo lontano da casa. Ho un pancione ed il caldo da record non aiuta. Come sopravvivere? Con intenzionalità, amore, pazienza, divertimento, ma soprattutto, come sempre, seguendo il suo disegno. Tutto ciò può sembrare richiedere uno sforzo. L'unico vero sforzo, però, è quello di arrendermi a Dio, colui che mi ha donato tutto ciò di cui necessito per condurre una vita in rettitudine per mezzo di Gesù. Nella quotidianità il Signore ci proporziona delle ottime opportunità per portare i nostri cuori a Lui. E voi, come state affrontando quest'estate? Condividete con noi le vostre idee, potremmo prenderne spunto, soprattutto se vi trovate nella stessa barca. A presto!